Bentornati sul mio canale ma soprattutto bentornati su Pokémon Mystery Dungeon Abbiamo completato la prima parte ragazzi, abbiamo aiutato un gruppo di Magnemite, tu c'è posta, attenzione No, non c'è niente, arriva Pikachu Quindi oggi ragazzi continueremo con Pokémon Mystery Dungeon Andremo avanti con la seconda parte Vedo che è già contro la tossa, abbiamo posta No, non abbiamo niente, Thunder Andiamo in piazza Pokémon Eccoci, benvenuti in piazza Pokémon Ragazzi, per chi è interessato al titolo, in descrizione lascio i link Sia in supporto fisico, cioè in edizione fisica, sia in edizione digitale Rispettivamente il fisico è su Amazon e quello digitale è su Instant Gaming Ok, fratelli Keckyon Questa è la banca Persia Ok, la combiniamo Deposito Kangaskar Ecco perché io in passato perdevo tutto Il Dojo Maokita, quello che usavo per allenarmi Quando sai dove andare e cosa fare, prova a parlare con il tuo compagno d'avventura Potrebbe darti informazioni preziose Il Dojo Maokita, quello che usavo per allenarmi Vedi, Bacheca Grotta tono onda Perfetto Queste quattro disponibili Tutte le difficoltà F Ma svolgiamo prima Questa Quindi noi dobbiamo tornare indietro E si parte Abbiamo già affrontata Grotta tono onda Però Che dobbiamo fare Che cosa ha lasciato Che cosa ha lasciato Fikaci sempre in mezzo i maroni Ma vai con me Che cosa ha lasciato Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Andiamo ad aiutare. Andiamo, andiamo, sbrigiamo subito la missione Rattata, dobbiamo aiutare Rattata Ma valla a riconoscere Rattata No, ma non vale, perché devi fare così? Ma ci parecce le mie coglioni Non muovono tanto che mi hanno beccato No E muoviti, Charmander, dai Madonna di Dio, sto Joy-Con Su, cerchiamo Rattata Ma lì c'è un solo Fica, se ne manco l'hai preso, Thunder, dai, su Vai, bravo Eccolo lì Perfetto Bravo Mado Barrilla E abbiamo perfuso Perfetto Mamma mia, due minuti di missione, siete già stanchi Ok, stiamo ancora sognando Fanculo, fanculo, così dice Sta avvenendo un terremoto Il mattino dopo È permesso, c'è qualcuno? Sì, sono io Ah, è il Digret, è il Digret No, è Dugtrio di Lettuga No Dobbiamo affrontare Scarmory Dovremmo essere in vantaggio il tipo Visto che siamo fuoco Yes Arriva Dice quello che devi dire, se ne va Mi piace Si parte Andiamo a salvare Digret Dalle grinfie di Scarmory Monte Acciaio Ora da ora puoi sporare il Monte Acciaio Mi piace Mi piace Ok, la Vesta è al Piano 9 Grazie dell'aiuto, buona fortuna Ci vediamo Questo è un Dungeon un po' più lunghino Andiamo, andiamo Monte Acciaio Piano Stanno già arrivando due BALTOY Io ti faccio morso, eh Poi ti faccio morso perché tu essendo psico Perfetto Perfetto, non aspetto Braceli Massimo gli togliamo gatti Se tanto non ci serve Te la prendi con me Infamore Non muore ancora Era duro questo, eh Piano 9, abbiamo fatto già il primo, dai Sì 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 Perché mi segui? Braceli Non è possibile che ti mancano due attacchi, però Ma perché non dà vicino il coglione? Pesso è giusto per l'accertamento Bravissimo Pikachu Quando fai così Veramente mi rendi fiero Prendi i soldi Bravo Non dimentichiamo che dobbiamo pure guadagnare Ci pensi tu Pikachu Dai Ma dai C'hai nel dispera Come fanno? Non basta Ma perché mi devo beccare io sempre? Sta arrivando un nemico dal basso Dove sono queste scale? Noi sono di là Ecco, intanto incontriamo uno Perfetto Baito Yef Fai attaccando Bravo Pikachu Dovresti ora doversti salire pure te al sette Non ci sono neanche qui le scale Due Quanto energia di sfera Miseria è un tipo volante Miseria Dove sono queste scale di merda Meditai Signori Eccole qua Non l'avevo vista Terzo piano Lascialo stare Bravo L'accerboso Che se ne ha E Pikachu Livello 7 Simpatia Uh, mi piace simpatia Divinisce l'attacco Attacco speciale Non ricordo male Togliamo che cosa? Brucia pelo No Non c'è io nemmeno Vinisce l'attacco Va bene Sì, non ti interessa Magari abbiamo beccato subito le cose Hai preso i soldi? Bravo Piano 4 Ok, mancano ancora 5 piani Spiro Perfetto Perfetto Ora, non ricordo Quando è che c'è la possibilità di far unire anche i nostri versari Nel caso Non è che c'è la possibilità di far unire anche i nostri versari Quindi, sì Ora, non penso che Bravo In questo Momento Beh, il Doom No, bellissimo Ma non può resistere lui Così Ma, carancia Scale Perfetto Non è che c'è la possibilità di farlo Sì 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 Un Geodide Usa un po' d'acciaio Usa una volta un po' d'acciaio Allora Andiamo di qua E' dietro E' dietro Fa' tu Lì già All'8 Molto bene Grazie Pikachu Vieni Chi è che siamo Ah, non li ha fatti fuori Già Sì No Quando fa così Mi fa girare i vedretti Ecco Perfetto Pensaci tu Bravissimo Come sei bravo Ma miseria Fossi sempre così Dov'è? Dov'è? Dov'è la scala? Ok Mancano due piani Ecco Vedi Stiamo morendo Dalla fame Infatti come pensavo Quella era Indicatore di fame Perfetto Ma non ho fatto niente Io non ho toccato niente Ah, ora io sono Pikachu No, ma perché? Scusami No Ancora sono Ma che c'è un tasto Come capito? Tattiche Infezione Richieste Altro Cosa c'è? Cambia leader Oh, ok Io non ho neanche toccato Prima quello Però È un Meditite Come? Ma tocca un po' Sì di stare Non ho toccato niente Dove sei pericolo Andiamo con me Scale Perfetto Ok Ok, manca solo un piano Ok, basta Di una forza quadra Deve essere Ma c'era lui con te Ma piglietela con lui No È un fogliato mossa Non lo fa il brezzo vuole Però Che succede? Guardatelo come È un fogliato Pikachu Perfetto Perfetto Arriviamo subito Alla base Alla base Guarda Sean Ecco Diglett Akuyu A che stai a farli? Oh, Scarpa È uno dei miei Pokémon preferiti Non ti voglio far male Povero Diglett Silenzio Silenzio No, perché devi farti Lei farti legnare Andiamo sul pesante Proviamo con il pirolante E lui con l'energia sfida Perfetto Oh, mi sguardo Il mio pirolante E di nuovo è l'energia sfera Perfetto 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 Non contro di me Bacca arancia Che pericoloso Ah, tutto qua Eh, vabbè Ma è stato più semplice È previsto Ah, basta Basta Avete vinto Me ne vado Me ne vado Ciao, Scarmory Ma perché non ti unisci? Ma tutto bene adesso Vieni qui, su Non posso Non riesco a muovermi Ho paura Ok, non temere Eh, no Non temere Come fai a raggiungerlo Eh, pat C'è precipizio Ah, i magnemite Che abbiamo salvato In precedenza Cosa? Lo tirano su loro Cosa fanno? Lo sollevano No, vabbè Scusate Ma come fa Un diglet Ad aggrapparsi Che non ha Nemmeno le mani O le zampe Non ha niente Primo È una specie Di boss fight Questa Con Scarmory Quindi Abbiamo vinto La prima Boss fight In questo gioco I soldi Dateci i soldi Oh papi Ciao Oh i soldi Oh ma non ci date niente Un e3 max Un seme salute Eh, ecco 800 poche dollari Bravo Non è che mi entusiasmi Mi muovo molto Per le magnemite Ma sì Dai, va bene È meglio di niente Oh ma non ci date niente E' un po' di niente E' un po' di niente Ma non ci date niente E' un po' di niente Stiamo ancora sognando La mia missione E basta è finito Ci sono solo indizi criptici Abbiamo una missione Però non sappiamo qual è Il mattino seguente Perfetto direi di terminare l'episodio qui Ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando Iscrivetevi Mettete mi piace E attivate la campanella per non perdervi i prossimi video E noi ci vediamo al prossimo episodio Di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di soccorso di X Ciao